Cristina Chiabotto, anni 33, ex Miss Italia, ha debiti con il fisco per 2,5 milioni di euro e adesso viene messo tutto in liquidazione perché Cristina Chiabotto, anni 33, ex Miss Italia, si trova nei guai e lo Stato ha una legge apposita che si chiama legge salva suicidi per aiutare coloro che sono finiti nei guai finanziari e vedete cari amici che non basta essere una bella donna, non basta essere una bella donna e diventare Miss Italia, ti può succedere anche questo che tu poi hai dei debiti col fisco di 2,5 milioni di euro che è una grossa cifra guardate che io la notizia che la metto come linea di assunto di questo video è una brutta situazione per Cristina Chiabotto Cristina Chiabotto aveva avuto la cultura di nascere bella, molto bella addirittura era diventata Miss Italia e poi grazie al suo essere Miss Italia era stata assunta in televisione faceva delle belle trasmissioni televisive poi si era messa nella finanza, si era data da fare aveva una bella rete di negozi ma le cose sono andate male perché non basta essere delle belle donne e diventare Miss Italia ci sono sempre dei problemi a questo mondo ora Cristina Chiabotto anni 33 si trova nei guai ma per fortuna che esiste la legge salva suicidi e lo Stato le darà una mano va bene cari amici Cristina Chiabotto anni 33 ex Miss Italia naturalmente adesso lei ha questa situazione però è sempre una gran bella donna rimane sempre una gran bella donna ce ne vuole prima che non sia più una bella donna va bene cari amici a Cristina Chiabotto e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino a Massoni ok 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 grazie 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 grazie